Sono Bruna Roccasalva, direttrice di Fondazione Furla e per Arte Fiera curo il programma dedicato alla performance. Tra le molte novità dell'edizione 2023 ci sarà infatti una partnership inedita tra la Fiera e Fondazione Furla. Lavorare in sinergia con altre realtà è parte integrante dell'approccio istituzionale di fondazione e per noi questa opportunità sarà una grande occasione per sperimentare una nuova forma di collaborazione ma anche per partecipare attivamente alla vita culturale di Bologna, città in cui la fondazione è nata. Per questa edizione abbiamo deciso di concentrarci su un unico ambizioso intervento con l'idea di creare all'interno dei padiglioni un momento di pausa, uno spazio di riflessione e i protagonisti saranno i membri del gruppo Public Movement, un collettivo di origine israeliana che dal 2006 porta avanti una ricerca in ambito performativo con un approccio di stampo politico e sociale. La performance che presenteranno a Bologna è intitolata Rescue ed è un lavoro che mette insieme coreografia, performance e installazione. Un imponente cumulo di rovine sarà lo scenario in cui si svolge l'azione dei performer, una coreografia in cui le operazioni di soccorso che in genere vengono applicate in luoghi di disastro diventano un insieme armonico di movimenti accuratamente sincronizzati. Vi aspettiamo ad Arte Fiera.